Benvenuti a Mazzoni News, su Roberto Mazzoni, giornalista professionista italiano che dalla Florida vi aggiorna su questioni politiche, economiche, tecnologiche degli Stati Uniti e non solo. Questo video è stato rifatto tre volte, quindi vale doppio. L'ho rifatto perché volevo concentrare al massimo le informazioni e renderle anche il più chiare possibile, perché questo ritengo sia l'argomento centrale del nostro futuro, il nostro rapporto con Big Tech. Big Tech è il vero avversario, è quello con cui ci scontreremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni magari, e che farà la differenza tra il poter mantenere una società in qualche modo democratica, oppure semplicemente scivolare verso una struttura, un regime totalitario tecnocratico. E naturalmente approfondiremo questi temi più e più volte perché è un tema molto vasto. Ma in questo video voglio darvi una idea chiara di quelli che sono i cinque rischi principali che la nostra società corre, grazie alla presenza di un sostanziale monopolio da parte di cinque aziende americane e di che cosa possiamo fare per incominciare a risolvere questo problema. Quindi partiamo subito con l'aspetto delle notizie che ci dà un inquadramento del discorso generale e cominciamo con Jason Miller che è un assistente strategico di Donald Trump, del presidente Donald Trump, che ha annunciato che Trump lancerà tra due o tre mesi circa una nuova piattaforma social media costruita da Trump e che questa ridefinirà completamente le regole del gioco. Quindi ci dobbiamo aspettare grandi novità, grandi cambiamenti e grande movimento anche nel mercato. Parallelamente Twitter ha dichiarato che in futuro prima di escludere dalla piattaforma un personaggio pubblico importante come per esempio Trump, si consulterà con dei personaggi pubblici, non sappiamo esattamente chi, non sappiamo esattamente come. Facebook che ha escluso Trump sine die, quindi senza limiti di tempo, in modo definitivo, ha comunque rimandato a un comitato esterno di grandi saggi la decisione se confermare questa espulsione decisione oppure modificare la decisione. Vi hanno già parlato in passato, Trump ha presentato a questo comitato di saggi la sua posizione e il suo ricorso e ci vorranno due mesi e mezzo prima che si arrivi a una risoluzione e per quell'epoca magari appunto avremo già la piattaforma pronta alternativa da parte di Trump. Questa decisione naturalmente era in qualche modo attesa, ci conferma il fatto che le strutture social media che ci sono oggi alternative rispetto ai grandi di Big Tech non sono adeguate per competere con Big Tech e quindi è necessario avere un approccio decisamente diverso, decisamente molto più forte, incisivo e gestito da un'organizzazione, da uno sponsor come può essere Trump che abbia anche le risorse economiche per poterlo far fiorire e far sviluppare rapidamente. In mancanza di una struttura alternativa di informazione e soprattutto di social media rispetto a quello che ci viene offerto oggi da Big Tech, la possibilità di avere un sistema democratico in futuro è molto bassa perché le informazioni abbiamo visto vengono bloccate, vengono alterate, ci sono un sacco di informazioni fasule che circolano, ma soprattutto c'è un chiaro impiego della tecnologia sia per concentrare le informazioni, le nostre informazioni nelle mani di pochi che poi usano tale informazione per manipolarci o per indirizzarci in determinate direzioni o comunque per influenzare le nostre decisioni anche politiche ed anche elettorali. Benissimo. Allora, diventa molto attuale una ricerca condotta nel 2019 da un ricercatore francese di nome Jacques Fontanel, in cui lui sostanzialmente dice i cinque grandi della tecnologia che sono Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, quindi GAFAM, abbreviati in inglese, hanno trovato una sigla visto che l'importanza di questa azienda ormai è enorme, presentano un grosso rischio per il futuro della società, il futuro della cultura, secondo questo ricercatore, e lui identifica cinque attività, cinque aree critiche, cinque rischi principali, che poi approfondiremo più in dettaglio nel seguito del video, e sono attività di quasi monopolio che soffocano la concorrenza e impongono prezzi stabiliti dal cartello, quindi dalle aziende, cinque aziende che sono consorziate tra loro, e questa è la prima. La seconda è la capacità di esercitare potere di controllo sulle economie nazionali attraverso la creazione e distruzione di un vasto numero di posti di lavoro, tre, il mancato rispetto della proprietà pubblica o privata attraverso lo sfruttamento dei dati personali e di servizi pubblici per i quali non pagano tasse e trasferimento di fondi all'estero, quattro, la manipolazione dell'opinione pubblica, ne abbiamo accennato, e cinque, un rischio per la sicurezza nazionale, considerando il fatto che ciascuna di queste aziende offre una backdoor per i servizi di intelligence americani e per la NSA, la National Security Agency. Quindi questi sono i cinque rischi chiave presentati da queste aziende e ci rendiamo conto che anche i politici di tutto il mondo incominciano a rendersene conto, in particolare negli Stati Uniti il Congresso sta tenendo in questi giorni, ha già cominciato, un'udienza sulla situazione di Amazon che presenta gravi problemi nella gestione dei posti di lavoro, nella sicurezza sul posto di lavoro. Amazon è un'azienda antisindacale, ossia proibisce l'uso di sindacati al proprio interno. C'è un'iniziativa in corso di una delle sedi di Amazon per creare invece una organizzazione sindacale a tutela dei lavoratori e il Senato federale ha avviato un'inchiesta su questa questione, ha invitato anche Bezos che non si è presentato, però sono emesse tante informazioni interessanti che poi vedremo in un video separato. Inoltre sono già 13 gli Stati che si sono uniti a una causa antitrust contro Google promossa dal Texas. Gli Stati sono Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Montana, Nevada, North Dakota, South Dakota, Puerto Rico e Utah. La causa è impostata da Ken Paxton che già conosciamo, il Procuratore Generale del Texas. L'argomento della causa è il fatto che Google raccoglie una quantità enorme di informazioni, anche senza che noi ne siamo consapevoli, che vengono poi vendute o scambiate con altre aziende che le usano sia per motivi commerciali, sia per motivi politici, sia per altri motivi. Non ci vengono dati gli scopi reali di tale raccolta e in generale noi credendo di usare un servizio gratuito, quello di Google o quello di Facebook o di altre aziende di questo genere, in realtà stiamo cedendo dati che hanno un valore enorme e che quindi avremmo il titolo di poter essere compensati per l'accessione di questi dati o di poter decidere se cederli oppure no. Google, secondo Paxton, ha cercato di monopolizzare prodotti e servizi usati dagli inserzionisti e anche di bloccare in qualche modo quindi lo sviluppo dei singoli editori, anche di piccoli editori, togliendo loro la possibilità di fare pubblicità in modo autonomo a dover passare attraverso Google forzatamente oppure attraverso Facebook, con cui Google ha già stretto un accordo di collaborazione reciproca in cui nel 2017, in una sostanza, non si fanno competizioni l'uno con l'altro. Dice sempre Paxton che c'è anche un conflitto di interesse perché Google rappresenta sia il consumatore sia l'inserzionista e gestisce al tempo stesso il mercato di scambio per l'acquisto di spazi pubblicitari. Noi siamo consapevoli che oggi il fatturato pubblicitario di Google e di Facebook è enorme, è gigantesco e è in grado di competere con qualsiasi altro editore, con qualsiasi altra realtà editoriale sul mercato e quindi di poterla fare da padrone. In più Google è già un oggetto di una caso antitrust da parte del Dipartimento della Giustizia statunitense che accusa praticamente Alphabet, che è la casa che gestisce Google e tutte le aziende che fanno parte del sistema Google, di essere diventata troppo grande. Con mille miliardi di fatturato, dice il Dipartimento di Giustizia, non stiamo più parlando di un'azienda ma stiamo parlando di una vera e propria nazione. E noi vedremo poi nell'intervista fatta al dirigente di Facebook che queste aziende, i dirigenti di queste aziende ritengono di essere delle nazioni, di essere al di sopra delle nazioni addirittura, quindi di poter decidere del futuro di intere popolazioni grazie al fatto che hanno un potere enorme e sono presenti in tutto il mondo. Nel frattempo l'Australian Competition and Consumer Commission sta facendo un'indagine per poi possibilmente imporre nella produzione di telefonini o di altri dispositivi informatici l'obbligo di presentare una scelta su quello che è il motorio di ricerca da usare di default, per difetto. Oggi quando compriamo un telefonino Android, il motorio di ricerca è Google. Se noi non facciamo nessuna modifica all'interno del telefonino, quello è il motore che ci ritroviamo. Questa commissione vuole invece imporre, vorrebbe imporre alle aziende di AB Tech, in particolare Google, di presentare un menu dove le persone possono decidere quale motore utilizzare. Un'altra causa invece che riguarda Facebook è già partita nel dicembre 2000 con 46 stati e la Federal Trade Commission. La Federal Trade Commission sarebbe l'agenzia governativa statunitense che si occupa della protezione del consumatore. In questo caso la causa sostiene che Google è diventato monopolista perché ha acquisito tutti i possibili concorrenti che ha trovato sul mercato, in particolare WhatsApp e Instagram. Per cui questa causa punta a far sì che Facebook sia costretto a vendere sia Instagram che WhatsApp. Il procuratore generale di New York, Letizia James, la stessa che sta indagando su Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha dichiarato in una causa che la stessa sta conducendo per quasi dieci anni Facebook ha utilizzato la propria posizione di predominio e di monopolio per schiacciare i rivali più piccoli e soffocare la concorrenza a spese dell'utente comune. Nel frattempo invece l'avvocato di Facebook invece dice che la causa è fuorviante perché in realtà vogliono prendersela con Facebook semplicemente perché ha avuto successo. Questo è in realtà falso perché Facebook per arrivare dove arrivate, Google per arrivare dove sono arrivati e hanno sfruttato anche i finanziamenti dello Stato importanti. Nel frattempo invece il Parlamento del Nevada, che è lo Stato dove si trova la gran parte del gioco d'azzardo negli Stati Uniti, sta avviando una proposta di legge che consentirebbe a queste aziende di diventare dei veri e propri governi. Quindi se una di queste aziende, Big Tech, GAFAM, acquista una porzione di territorio abbastanza grande nel Nevada, questa nuova legge consentirebbe all'azienda di trasformarsi in un vero e proprio governo locale con la possibilità di avere le proprie scuole, di avere un piccolo Parlamento locale, di raccogliere le proprie tasse e di avere magari anche una forza di polizia a propria disposizione. Questo sarebbe un cambiamento importante nell'ottica di queste cause perché oggi queste aziende si confrontano con il governo degli Stati Uniti o con i governi locali, come abbiamo visto ci sono iniziative che sono in corso in Texas e in Florida, come ente privato. Nel momento in cui diventassero dei governi locali avrebbero uno status diverso, sarebbe uno stato o un governo, anche se locale, contro un altro governo. Project Veritas ha pubblicato un'intervista condotta in modo semiclandestino da parte di due giornaliste a un dirigente importante di Facebook che rivela molte cose interessanti sul modo in cui Facebook ragiona al proprio interno, su quelli che sono i piani di Facebook, su quelle che sono le opinioni di altri dirigenti di Facebook nei confronti di Zuckerberg, che troverete nella parte nel seguito del video e che vi invito caldamente a vedere. Due proposte di legge abbinate, sono invece state presentate al Congresso degli Stati Uniti. La prima è la Camera, da parte di David Cicillin, democratico, e Ken Buck, repubblicano, mentre invece al Senato è stata presentata da Amy Klobuchar, democratica, e da John Kennedy, repubblicano. L'obiettivo di questa legge, che si chiama Journalism Competition and Preservation Act, è quello di far sì che, come hanno fatto in Australia, dove hanno costretto Facebook e Google a trovare un modo di negoziare con gli editori principali, in quel caso, quindi grandi editori, al fine di riversare su questi editori una porzione del fatturato pubblicitario che Facebook e Google fanno grazie all'uso delle loro notizie, questa legge invece punterebbe di più sui piccoli, sugli indipendenti, sui piccoli editori locali, che potrebbero a questo punto riuscire a recuperare una parte del fatturato che Google fa grazie all'uso delle loro notizie. Tenete presente che, secondo a un'indagine condotta recentemente dal Pew Research Center, che è una società che fa ricerche appunto sociali, il 90% degli americani legge le notizie online, quindi la quasi totalità degli americani non usa più il quotidiano, piuttosto che la televisione, piuttosto che altri canali, come fonti di informazioni primarie, ma usa l'online bene. Quindi vedete com'è importante avere un miglior controllo dei social media, avere la possibilità di avere una piattaforma indipendente, come nel caso di Donald Trump. Ok, abbiamo terminato la parte delle notizie iniziale e il resto di questo video sarà disponibile naturalmente su Mazzoni News.